Il 15 novembre 1960 va in onda la prima puntata di Non è mai troppo tardi, trasmissione curata dal maestro Alberto Manzi per insegnare l'italiano agli analfabeti e permettere loro di conseguire l'agoniato diploma. In particolare è interessante che in tutto il percorso della trasmissione che è durata fino al 1968, circa un milione e mezzo di persone sono riuscite a ottenere appunto questo diploma. Il metodo era abbastanza interessante, cioè era una vera e propria lezione che veniva poi trasmessa. Il maestro Manzi era in una classe con alcune persone, la maggior parte appunto analfabete, e teneva una trasmissione con una lezione con tecniche moderne, quindi con uso di filmati, di audio, e in particolare su delle cartelle, diciamo, mobili, scriveva e disegnava degli schizzi per rendere ancora più comprensibile quello che stava raccontando. Questa trasmissione, in generale anche la RAI di quel tempo, è stata fondamentale per unire la nazione, perché l'alfabetizzazione, l'unire tutti attraverso la lingua italiana è stato importante appunto per l'unità stessa del paese. Vorrei ricordare un piccolo particolare riguardante Alberto Manzi. Di lui ho letto un suo famoso romanzo, che era uscito qualche anno prima, mi sembra nel 1955, intitolato All the Way. L'ho letto in seconda media, me lo ricordo ancora adesso, la storia di un ragazzo in Sudafrica abbandonato in una foresta, un ragazzo bianco che viene adottato da una tribù di Boshimani. Un inno alla fraternità universale, che in qualche modo è rappresentata questa fraternità, questa unità, anche dalle lezioni della trasmissione Non è mai troppo tardi.